Quali torino è una sfida importante, come sono importanti tutte le sfide nelle città metropolitane, ma io sono molto carico, molto motivato e quindi sono convinto che faremo bene. Le persone che ho già incontrato mi danno molto affidamento e quindi sono contento e sono convinto che faremo molto bene. Allora, io qui ho trovato dei nuclei di specializzazione molto competenti, ma al di là dei nuclei di alta specializzazione noi dobbiamo lavorare sulla quotidianità, sulle circoscrizioni, sul vigile che ogni giorno la gente incontra per strada. L'ordinarietà deve diventare straordinarietà nella qualità, lavoreremo su questo e quindi soprattutto dal punto di vista delle relazioni personali, perché dal punto di vista professionale credo di contare su uomini e donne già molto preparati. È un ringraziamento della comunità nei confronti dei nostri agenti, della Polizia Municipale, che fanno un lavoro incredibile e c'è anche bisogno di intervenire rispetto al diritto della sicurezza ed è per questo che il prossimo anno faremo un concorso per assumere nuovi vigili. Vigili che fanno un lavoro capillare sul territorio per garantire la sicurezza di tutti, non dimentichiamoci che intervengono anche su operazioni importanti, sono vicini ai cittadini e poi nel garantire la sicurezza può capitare di dover fare anche delle monti.